Ciao ragazzi, vi faccio vedere i miei burro cacao dell'Avon e vari. Allora, questi sono cinque burro cacao dell'Avon al gusto ananas. E' di questo colore qua, colore giallino, e vi dico che c'è un buon profumo. Questi qua sono dell'Avon, questi al cocco, questi al cocco, ed è colore bianco. Sempre dell'Avon, questi al gusto vaniglia, e gusto vaniglia, sono nuovi e non riesco ad aprirli. Sempre dell'Avon, questi al gusto, sempre dell'Avon gusto sugar, sempre dell'Avon al gusto fragola, ha un buon profumazione, sa proprio di fragola. Questi sempre dell'Avon neutro, dell'Avon care, questi sempre dell'Avon care in edizione natalizia, sempre dell'Avon care intensiva, lo bello perlato, che è così, resta color rosa, le labbra, ed è molto buono. Questo sempre è il Labrosan, del Labrosan bimbi, che ha un'ottima profumazione, è buono, questo colore lo tengo come se fosse oro, perché non lo fanno più. lo bello classico, però è bianco dentro. Avon, perlato, sempre dell'Avon, perlato. Questi, è la mia scorta di buro cacao, pochi, diciamo, spero che vi piacciono. Dovrei avere quelli, anche quello, il gloss, lo devo cercare, appena li trovo ve li faccio vedere. Spero che vi piaccia, ciao ragazzi!